Peggioramento della situazione atmosferica sul piano delle 5 miglia. Problemi di transito, soprattutto per i mezzi pesanti, che hanno avuto qualche difficoltà a percorrere il tratto della strada statale 17, che collega sul Mona all'Alto Sangro. Qual è la situazione? Il camion è fermo? Sì, è fermo perché non riesce a salire, è slitta praticamente. Non ci hanno avvisato che c'era neve qua, e tantomeno giù era tutto pulito. Uno spazzaneve, uno spargisale, qualcosa, non c'è niente qua. Perché non è che è una bufera di neve, dice, ok, mi sono trovato in una bufera. Però questo qua è un nevischio, non è che è neve forte, bastava un po' di sale, cioè non rimanevo bloccato. E si poteva continuare a lavorare, perché lei lavora per un'azienda? Eh certo, che facciamo? Dobbiamo portare il pane a casa. Siete fermi sulla strada, da dove venite? Da Sora. E avete trovato difficoltà in che tratto, da Sora, qui? Beh, direi salendo su verso lo del Paradiso, perché c'è un tratto dove non passa lo spazzaneve. Però la via principale, devo dire che è abbastanza curata, cioè si può camminare tranquillamente. Comunque c'è sempre bisogno di precauzione, quindi le catene vanno sempre montate, a parer mio. Staremo a vedere come la situazione evolverà nelle prossime ore. Grazie. 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 Grazie.